Sono contento sicuramente, sono contento per la vittoria della squadra perché dovevamo dare continuità al lavoro che abbiamo fatto in settimana e anche alla vittoria contro il Sestri Levante e l'obiettivo di oggi era quello. Poi personalmente sicuramente è una bella soddisfazione aver fatto gol ma soprattutto dato il mio contributo alla squadra e so che comunque devo ancora lavorare molto perché sono arrivato dopo, mi sto ancora integrando, sicuramente la partita è il miglior modo possibile per conoscere meglio i compagni e trovare sempre meglio i meccanismi e sono soddisfatto ma andiamo avanti e adesso prepariamo la partita, la prossima di campionato. Ma non so dare un valore preciso, devo lavorare, sicuramente essere arrivato un mese e mezzo dopo il ritiro che ha fatto la squadra non mi ha agevolato perché comunque lavorare da solo a casa è un'altra cosa rispetto a lavorare sul campo e con un gruppo di ragazzi, però ogni allenamento che passa mi sento meglio sia a livello tecnico, tattico che a livello fisico quindi sono contento. Poi è un ambiente che mi permette di lavorare bene perché è un gruppo di alto livello quindi ogni compagno ti permette di alzare l'asticella. Molto bene, con lo staff tecnico sono a mio agio, sono contentissimo per il metodo di lavoro che abbiamo e mi hanno aiutato fin dal primo giorno, sento fiducia fin dal primo giorno quindi sono molto soddisfatto e mi sento molto bene. Il mio ruolo di regista è un ruolo che ho fatto in questi ultimi anni, l'anno scorso ho giocato tutta l'annata da mezzala ma è un ruolo che avevo fatto anche in passato quindi penso di essere utile anche in quello anche se mi trovo più a mio agio davanti alla difesa. Però sono sempre a disposizione del mister dove ha bisogno la squadra e il gol lo dedico alla mia ragazza.